Un conto è la prova di forza, un altro la realtà. Lo pensano ma non lo dicono i rappresentanti trevigiani di Forza Italia alle prese con la grana Vicenza. L'alleanza per Treviso resiste. Il coordinatore provinciale Fabio Chiesa anche oggi ribadisce che non ci sono motivi per cambiare rotta salvo un'eventuale imposizione dall'alto che sarebbe evidentemente sgradita. Lo stesso commissario Adriano Paroli pur richiamando la Lega all'ordine è pronto ad ascoltare la voce di Chiesa e i suoi. Siamo persone reali e coerenti dice Federico Caner candidato a Treviso con la Lega dubita che lo strappo avverrà. Sinceramente non credo che a questo punto possa saltare un accordo di questo tipo dato che ormai siamo riusciti faticosamente a mettere insieme tutto il centro-destra una corsa solitaria di Forza Italia la vedo in difficoltà. La Lega e il resto del centro-destra sarebbero in grado di vincere comunque aggiunge Caner pur con un giro di parole e Gentilini rincara. Io credo che una ripercussione a Treviso sarebbe un atto demenziale perché il mio credo è sempre stato che la politica deve rimanere al di fuori delle porte delle amministrazioni delle città. E quindi io prego i responsabili politici di ricompattarsi perché prima bisogna pensare all'uomo, ai cittadini e alla città e poi le diatribe politiche. Gentilini non ha mai nascosto il suo apprezzamento per De Checchi che in caso di corsa solitaria tornerebbe il candidato di Forza Italia ma dice oggi non lo appoggerebbe più. I giochi sono fatti, il candidato sindaco è Mario Conte e non ci si muove più da là. Punto e basta.